5 metri pronti, la base è in sposta pesata, la fulgografica Ara, grazie per la, grazie per la per la Grazie per la vicino a bohužel, Tripoli per la vicino a bohužel, Tripoli per la ci a la facinà Arche per la ci a la facinà Sur la la facinà Il